81 nuovi casi, 19 guariti, un deceduto proveniente dalla provincia di Taranto e numero dei ricoverati, che sale di due unità passando da 212 a 214. Questo il dato emerso dal bollettino epidemiologico pugliese del 21 settembre. I casi di coronavirus riscontrati nella nostra regione da inizio sono 7.075, di cui 2.189 attualmente positivi, 4.306 guariti e 580 deceduti. Sale da 1918 a 1977 il totale dei quarantenati. Passando su scala provinciale, il maggior numero di casi odierni è proveniente dal barese. Dei 37 positivi delle ultime 24 ore, 26 sono emersi da indagini di sorveglianza nella RSA Oasi Santa Fara di Bari, dalla quale provengono i contagi di 20 ospiti e 6 operatori. Totale dei casi in provincia di Bari è ora di 2.746. 25 sono invece nuovi casi in provincia di Foggia. Di questi, 20, 16 ospiti e 4 operatori sono stati registrati in una RSSA del capoluogo. Totale dei contagi del Foggiano è ora di 1.682. 14 sono i casi riscontrati nella provincia di Barletta, Andrea Trani. Totale della sesta provincia pugliese è di 580 positivi registrati da inizio epidemia. Numeri più contenuti nella provincia di Lecce e Taranto. 4 sono i nuovi casi nel Salento, zona il cui dato complessivo è ora di 759. 1 è il nuovo positivo nel Tarantino, area il cui totale è di 496 contagi. Nessun nuovo caso nel Brindisino, zona il cui dato totale resta di 758 casi. I 1.895 testoderni portano a 376.960 il totale dei tamponi effettuati in Puglia.